videl scopre il segreto di gohan in questo episodio si nota che gohan non trovando il cucciolo nel posto in cui stava lo va a cercare in città ma il problema è che arrivano i genitori del cucciolo impaurendo il direttore del circo che spara i dinosauri i nervositi attaccano videl e gohan è costretto a intervenire mettendo cappò con un pugno il maschio e dando il piccolo alla madre tutto finisce bene gohan insieme a gothen mantengono una buona amicizia con i dinosauri videl scopre il segreto di gohan perché lo capisce da delle coincidenze che ci sono state anche con great say amen che ha visto l'ultima volta però gli prometto di mantenere il segreto a patto che gohan si iscriva al torneo di arti marziali che si terrà prossimamente